Oggi si avvia lo sportello di assistenza, di aiuto per fornire delle informazioni all'impresa e ai professionisti del nostro territorio perché dopo le difficoltà, dopo l'emergenza coronavirus, l'amministrazione comunale ha stipulato un protocollo di intesa con l'ordine dei dottori commercialisti per avviare proprio questo sportello. Quindi oggi si parte, è un'iniziativa molto importante perché riteniamo che non tutte le imprese siano a conoscenza di quelle forme di finanziamento nazionale o regionale o di vario tipo che possano comunque essere presenti e quindi questo sportello avrà proprio questa finalità di ausilio alle imprese.